Il direttivo del comitato salvaguardia liceo Nolfi richiama l'attenzione dell'opinione pubblica sulla problematica della chiusura improvvisa del plesso ex Carducci, gravando sui disagi scolastici. Secondo il comitato composto da genitori degli alunni della scuola non sono state fatte delle verifiche idonee sulla chiusura dell'istituto. Dalla perizia eseguita il 6 settembre scorso è risultato che il complesso è inagibile. Il risponso della perizia è stato esaminato dai componenti del comitato, il cui interno è composto da genitori professionisti, che secondo loro le verifiche effettuate dalla regione sulla inagibilità non sono state accurate. Il comitato lamenta che da diverso tempo ad oggi si parla solo di costruzione dell'istituto e non di ristrutturazione, che comporterebbe un costo minore di 3 milioni e mezzo indicativamente rispetto agli 8 e 10 milioni se viene demolito. I genitori sono molto delusi, dicono che sono passati 9 mesi senza che la provincia abbia fatto passi in avanti. Rimarcano la posizione che la provincia non si è mossa bene su questa questione. Per questo il comitato composto da poco meno da 500 persone ha depositato un documento formale sollecitando le istituzioni. Altro punto importante che sottolineano sono le prove tecniche di carico che testano di norma lo stato di vulnerabilità di un edificio, se resistente o meno. La risposta da parte della provincia non si è fatta attendere. Secondo il dirigente del servizio edilizia scolastica Bartoli, sono state individuate due soluzioni tecniche che risolveranno le problematiche. Una a breve termine in vista della riapertura delle scuole a settembre, l'altra medio termine da attuare nel settembre 2021. Riguardo alla soluzione a breve, il dirigente sottolinea che secondo i tempi stabiliti sono state consegnate al dirigente Giombi le quattro aule ricavate all'istituto Libetti per accogliere i ragazzi del Nolfi che erano stati precedentemente ospitati alla Gandiglio. Altre 11 aule, grazie al dirigente Augello del Polo 3, verranno messe a disposizione presso l'istituto Battisti per gli studenti ospitati a Palazzo Marcolini che verrà nuovamente chiuso. Per la soluzione medio termine, l'intero Palazzo Battisti sarà fruibile agli studenti del Nolfi grazie ad altri lavori di sistemazione dell'Olivetti dove potranno trasferirsi le altre classi del Battisti. Per la provincia resta operativa la proposta del concorso di idee per la progettazione di un nuovo edificio il cui bando è previsto a breve, in attesa che venga pubblicata la graduatoria Sisma 120.